Alla domenica ci guadagniamo anche non solo la vittoria e tre punti, ma ci guadagniamo anche la serenità settimanale. Tornare a far punti dopo gli stop contro Picerno, Sorrento e Brindisi, conquistare la prima vittoria in casa, dare un segnale all'ambiente. Quella contro la Putiolane è una sfida dai molteplici significati per la Fidelisandria, che attende domenica al Degli Olivi, una formazione che la segue di una lunghezza con i suoi tre punti. Mister Gigi Panarelli ha le idee chiare, si va a caccia di un risultato per classifica e autostima. Quello che ci sta mancando è solo il risultato, perché le prestazioni ci sono, però non stanno bastando per far sì di portare a casa quello che è il risultato pieno della stessa gara. Però domani è una partita determinante, è una per noi, anche perché ci deve aiutare in quello che poi è tutto un discorso emotivo. Al netto di Azzarito, KO in allenamento, contro i Campani l'allenatore bianco-azzurro disporrà del gruppo al completo. In lista anche gli ultimi due arrivati in rosa, Alessandro Catapano, esterno destro di centrocampo classe 2001, che arriva dal Sestri Levante e ha giocato con Foggia e Roma a primavera, e Cristian Mariano, attaccante del 2000, che arriva dal Taranto ma nel suo passato ha 11 presenze in C con il Monopoli. Catapano è un quarto di centrocampo, un quinto, è un uomo di fascia in 2001, invece Mariano è un attaccante, una seconda punta. Abbiamo avuto Minacori, che c'è stato un infortunio e quindi la società ha deciso di darci ancora a disposizione degli under per essere ancora più completi. Al netto dell'11 di partenza, dove confida in un posto ad USA, per Panarelli conta lo spirito da applicare tenendo altissima l'asticella della tensione. Dobbiamo fare l'errore più grande di sottovalutare, tra virgolette, un avversario che, detto tu bene, è molto giovane, però ben messo in campo. È una squadra temibile, poi non dimentichiamo che è una squadra sempre campana, dove la scaltrezza, la furbizia, anche degli stessi uomini a disposizione della puteolana possono, anche in questo campionato, è un'arma, dire la loro. Quindi dobbiamo essere concentrati, dobbiamo avere grande rispetto per questa squadra, però dobbiamo pensare a noi, fare la gara.